Via le mascherine all'aperto in tutta Italia da venerdì 11 febbraio. L'annuncio è arrivato dal sottosegretario alla salute Andrea Costa, secondo il quale occorre recuperare la fiducia dei cittadini dando segnale di positività. Il provvedimento, valido su tutto il territorio nazionale senza distinzioni di colore per le regioni, cancella l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale quando ci si trova all'aperto. Cambia così il calendario delle scadenze e delle misure adottate per contrastare l'emergenza Covid. Ecco nel dettaglio le date da ricordare, a partire dall'entrata in vigore da oggi della circolare del Ministero della Salute che ha ridotto da 10 a 5 giorni la quarantena per i non vaccinati. L'11 febbraio, oltre alla fine dell'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, finisce anche la proroga della chiusura delle discoteche e dunque si potrà tornare a ballare. Dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati, compresi quelli in ambito giudiziario e i magistrati, che hanno compiuto i 50 anni, dovranno esibire al lavoro il Super Green Pass che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Chi non lo farà non riceverà lo stipendio, ma conserverà il posto di lavoro. 28 febbraio, fino alla fine del mese, nelle scuole statali e paritarie saranno distribuite gratuitamente le mascherine FFP2 ad alunni e docenti che dovranno sottoporsi ad autosorveglianza. Il 31 marzo scade lo stato di emergenza in vigore da oltre due anni, al quale sono legate tutta una serie di norme, tra le quali quella sullo smart working. L'orientamento, se continuerà il calo dei contagi e dei ricoveri, è di non prorogarlo. Il 15 giugno, infine, per gli over 50, terminerà l'obbligo del vaccino in base a quanto deciso nel decreto legge di inizio gennaio. Il 15 giugno, infine, per gli over 50, Inizio gennaio